Bene, è giunto il momento di parlare di salute. Noi ci siamo messi comodi per farlo e come di consueto, come facciamo ogni martedì, in questi studi ospitiamo il dottor Salvatore Cusenza che ringrazio sempre per la disponibilità. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Allora, noi siamo prontissimi per parlare di salute attraverso l'alimentazione, per cui diamo una linea alla regia per la SILA e ci ritroviamo subito dopo. Dunque, eccoci pronti ad aprire una nuova pagina della rubrica La Salute vien mangiando. La scorsa volta abbiamo parlato di dieta chetogenica, oggi ci vogliamo concentrare su un altro aspetto di cui si sente spesso parlare, ossia il digiuno intermittente. Dottore, che cos'è e se davvero può essere utile a gestire la nostra routine alimentare e che benefici può darci? Ah, buongiorno, ribongiorno di nuovo. Il digiuno intermittente o intermittent fasting nasce da un'idea lontana, perché in tutte le regioni ci sono delle restrizioni caloriche o dei giorni, delle ore di digiuno. O dei periodi di digiuno, addirittura, di mesi. Quindi Walter Longo, che è originario della Calabria ma ha cresciuto a Genova, ha 17 anni, questo ragazzo che poi è diventato uno scienziato direttore del centro di ricerca avanzata per l'immecchiamento, parte da Genova per andare a Los Angeles per fare il chitarrista. In realtà poi lì tutto fa, tranne che il chitarrista, anche se rimane sempre la sua più grande passione, ma inizia a studiare Biologia e si laurea e inizia a fare degli studi sulle restrizioni caloriche, sul digiuno intermittente. Cosa ha portato questo digiuno intermittente? Si è visto che anche facendolo per soli 5 giorni l'anno, in cui in questi 5 giorni, esperimenti fatti sui topi, premesso, poi è stato fatto sugli esseri umani, si vedeva come in 5 giorni questi topolini del laboratorio con 5 giorni di restrizione calorica abbassavano la pressione, aumentavano la qualità di vita, vivevano qualche giorno in più. Tutto questo poi ha ideato, ha fatto sì che ideasse il digiuno intermittente, studiato sulle persone e si è visto che anche iniziare a 70 anni una restrizione calorica allunga la vita di 3-4 anni, migliora la qualità di vita. Partì da un digiuno fatto 5 giorni all'anno in cui si assumevano pochissime proteine animali, soprattutto proteine vegetali, verdure e olio, olio con tantissimo polifenoli, per poi ripetere questa cosa 2 volte all'anno, 4 volte all'anno, a ripeterlo 5 giorni al mese. Così si è visto che... Quindi tendenzialmente una volta alla settimana. Una volta al mese, una volta al mese facevo questa restrizione, gli ultimi studi hanno fatto questa restrizione catolica, l'hanno fatta con 5 giorni al mese. Si era partita 5 giorni l'anno, si è arrivata a 5 giorni al mese. Poi in realtà sono stati fatti anche dei protocolli in cui si fa un digiuno intermittente o programmato in cui si fanno 16-18 ore digiuno e 6-7 in cui uno può fare i 3-4 pasti bilanciati. Quindi creare queste 16-18 ore digiuno in cui il corpo porta alla morte le cellule vecchie, rigenera cellule nuove, quindi per apoptosi fa morire le cellule vecchie e quindi le elimina, accelera il processo di dimecchiamento. Ha un effetto anti-aging, quindi ecco perché lui è poi tra l'altro il direttore del centro gerontologico, quindi per le patologie dell'invecchiamento, anti-aging. Quindi da qui viene fuori che comunque una restrizione calorica fondamentalmente allunga la vita e riduce le malattie, la possibilità di ammalarsi. Faccio sempre questo esempio io, da cui poi è la stessa esempio da cui è partito lui. Gli ultracentenari sono tutti tendenzialmente magri o sottopeso. Non è un caso. Meno si pesa e più si allunga la vita e meno ci si ammala. Quindi tutto il concetto parte da questa idea di restrizione calorica che era già praticata in alcune religioni, ad ore o addirittura a mesi. Come ricordiamo sempre, ovviamente quello che diciamo e lo esprimiamo in termini generici, poi ovviamente ognuno di noi deve recarsi o consultare il proprio medico, il proprio specialista di fiducia per avere delle indicazioni più calibrate sulle proprie specificità. Ma ritornando a quello di cui stavamo parlando sempre in linee generiche, se lo riportiamo su base settimana, dicevamo questo... Su base settimana allora si potrebbe tranquillamente fare o i 5 giorni al mese di questo tipo di un po' più spinta di restrizione in cui in questi 5 giorni si fanno delle colazioni, pranzo e cena a base vegetale con pochissime proteine. Quindi non è un vero e proprio digiuno. È un digiuno ma hai un carico calorico bassissimo, 5-600 calorie al giorno, colazione e pranzo e cena. Oppure, fatto per 5 giorni al mese, oppure un digiuno in cui hai delle ore in cui assumi solo liquidi senza calorie, quindi acqua, tè, caffè, senza zucchero, senza niente, quindi senza calorie. E nelle altre 6-8 ore, diciamo il 16-8 è il più comune, nelle altre 8 ore in cui fai i 3 pasti, colazione e pranzo e spuntino oppure pranzo e spuntino e cena. Dal primo impasto all'ultimo non devono passare più di 8 ore. C'è anche chi pratica un digiuno intermittente, 20 ore di digiuno e 4 in cui puoi pranzare e fai 2 pasti, quindi si può articolare in base poi a tante cose, anche alle necessità del paziente, cosa vuole raggiungere. Premetto anche un'altra cosa, questo tipo di approccio alimentare fa anche perdere tessuto adiposo, fa perdere anche grasso, quindi non ha solo un effetto anti-aging, rigenerante dei tessuti, delle celle, ma fa perdere anche grasso. Ecco, tante volte abbiamo anche, ci siamo anche soffermati sul fatto che oggi mangiamo di tutto di più, a tutte le ore, magari facendo poca attenzione alla qualità di quello che ingeriamo. Ritorna quindi un po' anche la buona pratica mangiare meno, mangiare meglio? Certo, il problema è che adesso si mangia tanto ma non si mangia di qualità, sono tutti cibi ultra raffinati e non è un caso, se proprio ieri ho letto un altro video in cui in Italia ci sono 25 milioni, siamo 60 milioni, ci sono 25 milioni di sovrappesi e obesi, quindi praticamente il 40% della popolazione e di questo 40% la maggior parte si concentra dalla campagna a Puglia in giù, a campagna e bruzza Puglia in giù, perché le abitudini alimentari sono più spostate verso il farinaccio, il carboidrato, il pane più buono, al nord il pane insapore, sempre una cosa brutta ma in realtà per loro è una cosa positiva. Quindi questi dati sono abbastanza allarmanti, ma anche la qualità, l'inquinamento del cibo porta a tantissime patologie. Prima tutte queste allergie, intolleranze non c'erano, l'intolleranza al glutine, perché il glutine era senato dai cappelli, il nostro intestino riconosceva quella proteina e non dava problemi. Adesso ogni anno escono 100 tipi di grani nuovi, con 100 tipi di glutini nuovi, più proteico, concentrazione più alta di proteini, quindi di glutino, per il pastificio va bene, perché rende l'impasto più elastico, ma per l'intestino dell'essere umano non va benissimo e quindi abbiamo gonfiore, diarrea, stitichezze, problemi vari. Quindi parlo solo del grano, per non parlare di tutta la frutta e le verdure che sono ultra concimate e diserbate. Quindi si assiste a un aumento di tutte le patologie, tumorali, allergiche, intolleranze, patologie autoimmune, perché poi questi prodotti vanno anche a interferire con il sistema endocrino, quindi è tutto un casino. Quindi mangiare, abbiamo detto... Poco, ma di qualità, cercando di prediligere prodotti veramente poco contaminati o biologici. E questo oggi è possibile, perché anche se in misura ridotta, non ancora significativa, c'è un ritorno alla campagna. Sono molte le persone che stanno ritornando a coltivare i propri pezzettini di terra, proprio perché questa consapevolezza del cibo più sano, che ci fa stare meglio, si sta diffondendo. E poi ricordiamo che già in epoche passate, ecco, per facilitare questo tipo di acquisti più salutari, sono nati i gruppi di acquisto solidale, i gas. Esatto, esatto. Dove si acquistano da... si acquista direttamente la cassetta dal produttore, se questo produttore fa anche coltivazioni bio, meglio ancora, ma non solo si acquista prodotti di qualità, ma anche a minor prezzo. Perché poi tutti guadagnano in questa cosa, tranne chi li produce. Guadagna solo chi vende, ma il produttore guadagna pochissimo. Così il produttore guadagna di più, ma chi acquista paga la metà. E si può coltivare con maggiore cura per l'ambiente e per l'essere umano. Anche perché, apri e chiudo parentesi, l'eccesso di inquinamento, di fertilizzanti, di gas serra, stanno portando a quello che stiamo osservando. Tornadi, cicloni, tempeste di acqua, estati caldissime. Purtroppo questa è tutta una causa, una conseguenza dell'inquinamento. Ecco, quindi per raggiungere ad una conclusione, mangiare meno, mangiare meglio non fa bene solo noi, ma anche all'ambiente in cui viviamo. al pianeta. Grazie dottor Cusenza, come sempre per la tua disponibilità. Oggi quindi abbiamo sintetizzato con questa formula, mangiare meno, mangiare meglio, il tema del digiuno intermittente. Per quanti volessero, possono anche scrivere una mail al dottor Cusenza. Dottore, ci ricordi la tua mail? La mail è dr.cusenzasalvatore.com. È facile, facile da ricordare. Eccola lì, la vediamo anche in sovrimpressione. Ringrazio la regia per il supporto puntuale. Bene, noi ci ritroviamo la prossima settimana, dottore. Grazie mille. Martedì prossimo, alla solita ora. Buona giornata. Buona sana alimentazione a te e a tutti noi. Grazie. Linea alla regia.